Ben ritrovati in questo nuovo video dove continuiamo il discorso dell'overtraining analizzando le cause del sovrallenamento e le ipotesi che si sono aperte per spiegare questo fenomeno, ancora in parte poco chiaro. Una delle possibili cause dell'overtraining è spiegata con un'ipotesi che prende il nome di ipotesi del glicogeno. Secondo questa teoria bassi livelli di glicogeno intramuscolare potrebbero causare la sindrome del sovrallenamento. Sebbene sia un'ipotesi presa in considerazione a livello teorico, dal punto di vista pratico non parrebbe trovare un riscontro effettivo. Una ricerca parecchio datata ormai del 1988 in nuotatori che hanno assunto pochi carboidrati ha causato un aumento della fatica durante l'allenamento, ma i nuotatori stessi non sono caduti in una sindrome da sovrallenamento. Al contrario, da una ricerca del 1995 si è visto come atleti che avevano assunto una dose normale di carboidrati erano riusciti a mantenere i livelli di glicogeno a livello muscolare, ma sono caduti in sovrallenamento. Pertanto l'ipotesi del glicogeno muscolare per spiegare una possibile causa del sovrallenamento non sembrerebbe trovare almeno ad oggi un riscontro effettivo, ma proseguiamo e cerchiamo di capire quali altre teorie e cause possibili si sono formulate a livello scientifico per spiegare questo fenomeno complesso. Un'altra causa è l'ipotesi della serotonina. Abbassamenti dei livelli di serotonina infatti sembrerebbero portare alla sindrome da overtraining. Beh, questa forse è un po' esagerata come teoria, in quanto sembrerebbe essere più un effetto dell'overtraining che non propriamente una sua causa. Ma le possibili cause del sovrallenamento o chiamiamole teorie non sono ancora finite. Alcuni spiegherebbero l'overtraining con una disregolazione del metabolismo della glutammina, con una riduzione delle concentrazioni di questo amminoacido nel nostro corpo. La glutammina, lo diciamo solo per ricordarlo, ma troverete un articolo dedicato nel nostro blog, è un amminoacido non essenziale, fondamentale per l'equilibrio acido base, la neoglucogenesi e le funzioni immunitarie. Anche in questo caso l'ipotesi della glutammina è considerata più una conseguenza ed un effetto visibile di chi è in overtraining più che una causa effettiva, ma non potevamo non citarla visto che in diversi studi è citata questa ipotesi per spiegare il sovrallenamento. Ma un'altra possibile causa dell'overtraining è l'ipotesi dello stress ossidativo. I marker legati ad un eccessivo stress ossidativo sono molto elevati negli atleti che presentano la sindrome da sovrallenamento. Anche in questo caso sarà davvero una causa o piuttosto una conseguenza? In questo video dobbiamo ancora raccontarvi alcuni aspetti dell'overtraining e altre sue possibili cause. L'ipotesi delle citochine è una di queste. Sappiamo che l'overtraining è causato da uno stress eccessivo con un bilanciamento scorretto tra allenamento e recupero. L'eccessivo sbilanciamento tra danno muscolare e quindi produzione di citochine e processi di riparazione non andati a buon fine per eccessiva frequenza, intensità o volumi di allenamento causerebbero l'overtraining. Da quanto spiegato il vero problema si nasconderebbe dietro una programmazione poco accorta dove i parametri dell'allenamento non vengono dosati adeguatamente rispetto al livello di preparazione dell'atleta e tra questi parametri dell'allenamento il recupero giocherebbe un ruolo chiave. Se da una parte infatti un insufficiente recupero sarebbe causa di sovrallenamento dall'altra parte un'eccessiva stimolazione muscolare protratta nei mesi sarebbe una causa scatenante di tutti quegli eventi fisiologici che ricadono nelle ipotesi che abbiamo analizzato brevemente in questo video. Nei prossimi video però vedremo i sintomi e le classificazioni dell'overtraining e cercheremo di capire altri aspetti su un tema ancora oggi poco chiaro e parecchio complesso. Se siete arrivati fino a qui nel video vi ricordiamo di iscrivervi al canale, farlo conoscere i vostri amici e postare le vostre domande e dubbi nei commenti qui sotto. Come sempre vi ringraziamo per averci seguito e noi ci rivediamo al prossimo video.